Si chiama Will Thompson, è un bravo tatuatore straniero, non è chiaramente italiano, e pensate che mette i suoi video nei diversi social network, si tratta dei video in cui mostra i suoi elaborati artistici, e quindi il tatuaggio che va a realizzare per uomini e per donne. E uno ha colpito un po' tutti, perché? Perché pensate che un uomo ha richiesto e ha ottenuto di ricevere da Will un tatuaggio con la scritta Shrek, qualcuno si potrà anche domandare, beh che c'è di strano, non c'è nulla di male tatuarsi Shrek, il famoso orco non è un problema, si ma il fatto è che questo uomo si è fatto tatuare Shrek sulla fronte. Il famoso orco della Dreamworks infatti ha un successo clamoroso e pensate che proprio il tatuatore Will ha tatuato Shrek a Henry Bravo, si chiama così, questo uomo che si è affidato ciecamente di lui e gli ha commissionato di realizzare questo strano e particolare tatuaggio. Non è, diciamo così, l'orco nella serie, nella, diciamo così, tatuato in senso fisico, non è che si vede l'orco che sta nella testa o nella fronte di Costui, si tratta semplicemente della scritta Shrek, S-H-R-E-K. Pensate proprio in fronte, una scelta forse strana, barbina, ma al di là di tutto è una scelta tipica, infatti nessuno si tatuerebbe qualcosa in fronte. Grazie a tutti, utenti di Youtube, il video del mio, ciao a tutti e una buona giornata.